però voglio dire poi sono andate tutti perfettamente in porto e quindi oggi siamo qui ad inaugurare questa mostra come appunto è stato detto. Quindi che cosa posso dire? Vorrei parlare a braccio, sarebbe molto più interessante, ma certamente mi perderei nei meandri delle cose che avrei voglia di dire e che sicuramente è necessario dire per un incontro come questo che è sicuramente per noi una cosa molto importante. L'abbiamo voluto, ci abbiamo creduto e finalmente siamo qua a goderne il risultato. Vi chiederete sicuramente che cosa c'entra una mostra d'arte in un'azienda come la nostra, o meglio con un club della qualità della Confindustria che io ho ovviamente il compito e il dovere e il piacere anche di presiedere, ma in effetti invece c'entra molto perché un evento culturale come quello che stiamo appunto per inaugurare questa sera è sicuramente anche un po' nel DNA di noi imprenditori. Quindi non è stato fatto e non è un capriccio per il gusto di soddisfare un piacere, ma è sicuramente qualche cosa che ci appartiene. Il nostro club...